Divisione della posta in palio dopo 90 minuti tirati ed indensi tra Tolentino e Grotta Mare, rispettivamente quarta e quinta forza del campionato. Decisamente più squadra quella Cremisi che nel corso dei primi 45 di gioco ha sprecato a gogo le occasioni da rete create. Più sorgnona e pragmatica invece la formazione ospite che nella prima occasione riesce a passare mettendo così nella posizione di dover rincorrere la formazione Cremisi. Alla fine comunque un punto a testa ci sta tutto con due squadre che rimangono così in corsa per centrare l'obiettivo dei play-off. Nei restanti quattro incontri da qui alla fine del campionato. Si inizia con il giusto riconoscimento a Carlo Mongello che quest'oggi ha festeggiato le 100 presenze con la maglia Cremisi. Al dodicesimo il Tolentino potrebbe passare, Mongello lancia Belli che entra in aria, prova la botta vincente ma Beni si esalta e in qualche maniera riesce a deviare. Al diciottesimo ci prova Severoni, conclusione a giro e nuova deviazione del portiere bianco-celestre in angolo. Alla prima disattenzione al ventiduesimo Campanella si allunga troppo la sfera, D'Angelo l'anticipa, mette al centro per Ludovisi che riesce a superare la rossi. 1-0 ospite. Cerca di riscattarsi dopo dieci minuti il centrale difensivo Cremisi, Campanella, angolo di Mongello ma il tapin vincente non arriva. Spinge ancora la formazione di mister Mosconi a sei minuti dal termine della prima frazione, serpentina di Mongello in aria bianco-celeste, sfera di nuovo al lato. Nella ripresa nemmeno un giro di orologio che il pareggio è cosa fatta. Quinto angolo Cremisi, Assis di Mongello, testa di Campanella, 1-1. Al decimo ci riprova ancora Mongello di controvalso, parla sull'estremo della porta ospite difesa da Beni. Con il passare dei minuti sono gli ospiti a venire fuori ed il pareggio rimane tale grazie a due interventi del portiere Cremisi, Cristof Rossi. Al diciannovesimo minuto, quando toglie il pallone dai piedi di Valentini in aria Cremisi. E al trentatresimo, con il neoentrato de Panicis, che dalla sinistra si accentra e entra in aria, punta il portiere Cremisi che però gli toglie il pallone prima dell'ultimo tocco vincente. Nel finale, in fase di recupero, l'espulsione di Federico Ruggeri per doppia ammunizione. Un risultato di parità che lascia inalterate le speranze di centrare l'obiettivo massimo stagionale per entrambi le contendenti. Mister Mosconi, partita viva e vera fino all'ultimo istante. Due gol e tantissime occasioni, sia dall'uno che dall'altro fronte. Più di uno e dall'altro fronte, più di tante del Tolentino, sia il primo tempo che il secondo tempo. Non male, nel secondo tempo ci siamo un pochettino aperti, abbiamo anche... la potremmo anche perdere, soltanto in occasioni clamorose il primo tempo andava fatto go. Era impensabile riuscire a costruire il secondo tempo come il primo. Abbiamo iniziato a giocare un po' difficile dopo l'1-1, però va bene, spirito giusto. Era difficilissimo vincere due partite casalinghe, però ci siamo. Quando una squadra crea tanto, dopo prima o poi si riesce a metterla dentro. Il calcio è così, si compensa. Mister Manoni, un risultato di parità che penso alla fine possa accontentare entrambe le formazioni. Un primo tempo dove a livello di opportunità ne ha avuto più il Tolentino. Nel secondo tempo invece avete rischiato di portarvi l'intera posta in palio. Sì, è stata una gran bella partita giocata a viso aperto. Entrambe le squadre non sono state lì a risparmiarsi, si sono affrontate a viso aperto cercando di ottenere l'intera posta fino alla fine, sia il primo tempo che il secondo tempo. Nel senso, sì, magari numericamente c'è avuto qualche palla in più il primo tempo il Tolentino. Abbiamo sfruttato male qualche occasione dove potevamo arrotondare il risultato al primo tempo.